Uè non fare il magazzino muffito da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE DAIE Can you hear the screaming? con la potenza della fenditura puoi far cadere dal cielo ancore automobili e tanto altro praticamente è un oggetto che si può lanciare e l'oggetto invece che precipita danneggi i giocatori e distrugge tutto ciò che incontra all'atterraggio crea una piccola onda d'urto che danneggi i giocatori e distrugge appunto strutture o anche cose ambientali il colpo diretto fa 200 di danno cioè se a un giocatore gli cade in testa un oggetto one shot va a terra i colpi diretti respingono anche leggermente i giocatori e il colpo dell'onda d'urto invece è di 100 lo rilasciano in gruppi da due e si possono ottenere massimo 4 in 1 slot rarità epica come avevamo anticipato e lo troveremo ovviamente nel bottino a terra nei forzieri e nei drop hanno fatto delle modifiche i consumabili con glitch sul luogo dell'esplosione si trovano dei consumabili con il glitch praticamente è esplosa la pompa di benzina al campetto da calcio e quindi essi si trasformano in vari oggetti casuali del passato le mele 5 di salute i funghi 5 di scudo le noci di cocco 5 salute prima o altrimenti 5 di shield i peperoni aumentano la velocità di movimento le rocce salterine diminuisce la gravità o altrimenti le pietre ombra dove virrete trasformati per un breve periodo di tempo in fantasmi quindi meraviglioso il fatto che ci siano questi consumabili jolly nel luogo dell'esplosione hanno cambiato la mappa e quindi dice la mappa è cambiata un malfunzionamento del segnalatore di fenditura ha causato un'esplosione ha lasciato un enorme cratere e creato i consumabili con glitch hanno aggiornato anche la copertura giocattolo verde quella per chi non l'aveva ricevuta mentre invece nella modalità creativa ci sono i nuovi prefabbricanti e gallerie che potete vedere il magazzino muffito oppure la tavola calda muffita che è questa in poche parole quelli che già avevamo in game qualche season fa hanno aggiunto anche il deposito blu il deposito rosso la galleria magazzino muffito e la galleria oggetti modifica anche su save the world arriva il dispositivo di lancio v6 ve l'avevo già spoilerato all'uscita della pace scalda i motori con questo nuovo lancia razzi il dispositivo di lancio y v6 arriva nel negozio settimanale ed entra nel set army rat rod arriva anche stella ammantata aiutare stella ammantata per raggiungere la stazione radio e trasmettere la sua canzone dell'estate modificate anche alcune problematiche per quanto riguarda i bug grafici o anche il drop di frame hanno risolto anche alcune informazioni che mancavano nelle schede comando e armeria parliamo sempre di save the world e un sacco di bug minori fixati insomma ragazzi anche in questa pace tante novità vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 15 in live ciao iscrivetevi al canale